Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1 a Milano-Napoli, tra Firenze in Pruneta e Firenze Nord, verso Bologna, ci sono 7 km di coda con tendenza alla diminuzione per traffico in congestione. Troviamo inoltre 4 km di coda per un incidente, sempre verso Nord, tra Incise Reggello e Firenze Sud, rallentamenti per traffico tra Calenzano e Aglio e in carreggiata opposta coda in uscita a Firenze Sud. Sulla Firenze Mare, code per traffico tra Firenze Ovest e Prato Est, verso Pisa. Infipili rallentamenti per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci nelle due direzioni e code in uscita alla Strassigna e a San Miniato, provenendo da Firenze. Per il traffico urbano del capoluogo, rallentamenti sulle principali direttrici in uscita a città. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie!